Una gita nel bosco Peppa e la sua famiglia fanno una gita nel bosco. Qui inizia il sentiero, dice Papà Pig. Però che sbadati! Nessuno si è ricordato di prendere il cesto del picnic. Lungo il sentiero Peppa trova delle impronte. Di chi sono? chiede. Seguiamole e scopriamo chi le ha lasciate, propone la mamma. Però dobbiamo fare piano, così l'animale non scapperà via, spiega la mamma. Peppa e George seguono in silenzio le impronte e così scoprono che a lasciarle è stato... un uccellino. Con il binocolo che ingrandisce le cose, Peppa lo vede mentre porta un verme al nido. Ci sono tre piccini da sfamare. Poco dopo, ecco altre impronte. Sono impronte piccolissime, esclama Peppa. Le hanno lasciate le... Formiche! Eccole lì! Nel frattempo è arrivata l'ora di pranzo, ma... Oh no! Il cesto del picnic è rimasto in macchina. Bisogna tornare indietro. Guardate queste impronte, sono nostre, esclama il papà mentre indica una traccia sul terreno. Se le seguiamo, arriveremo presto alla macchina. Oh oh! Inizia a piovere e la pioggia cancella le impronte. E ora? Per fortuna arrivano le anatre. Sono bravissime a trovare i cesti dei picnic. Basterà seguirle per ritrovare la strada. Finalmente ecco la macchina con il cesto del picnic. Grazie signore anatre, esclama Peppa. Mi piacciono le gite nel bosco, dice Peppa. E a me piacciono i picnic, dice il papà. I picnic piacciono a tutti, anche alle anatre, agli uccellini e alle formiche. Fine 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 Grazie.